lo ammetto sono un pochino difficile con i deodoranti perché la mia pelle ha bisogno di qualcosa di strong e con i deodoranti i brochets precedenti non andavo d'accordo ma con questi è tutta un'altra storia esistono in due profumazioni malva e fiori di cotone e limone e menta di bretagna durata 24 ore testati su tutti i tipi di pelle favolosi non bruciano non creano nessun tipo di irritazione efficacia anti odore e non contengono sali di alluminio perfetti per un uso quotidiano e con un'ottima qualità prezzo un'altra cosa importantissima non lasciano nessuna traccia sui vestiti approfittane ora quindi perché sono in offerta lancio puoi acquistarli singolarmente a prezzo intero oppure in set dove li trovi entrambi a prezzo super sigla a prezzo con i direi di un'ottima qualità trezza con i 애 availabilityi coste con i